bonjour bonjour a Tulemon bonjour a Tulemon una nuova settimana i francesi ci hanno restituito a San Siro il 3 a 1 che gli avevamo inflitto a Parigi e quindi sono primi in National League ma vabbè vorrà dire che affronteremo un'avversaria un po' più dura ma l'importante insomma era essersi qualificati allora ragazzi vi devo dire prima di entrare sugli argomenti che ci sono sempre più amici che mi chiedono una collaborazione sul mio canale youtube non so se volete farla anche voi allora l'ultimo è questa azienda che si chiama Style 3.0 e che fa questi aggeggi qua vedete cosa sono questi aggeggi qua sono praticamente dei portatelefoni con un brevetto internazionale poi attaccate questa parte qua sul telefono ragazzi non si schioda neanche per sbaglio brevetto italiano che viene dalle marche veramente costa pochissimo Valerio Valeri è l'amico che mi ha detto regalandomi mi ha detto ma senti dopo serangiù li fai vedere magari al camisere al tuo pubblico e qui va beh c'è il solito ricondizionato di Regen Store che già conoscete e io ve lo dico vabbè vi presento velocemente con lo spot questa aziendina così capite anche gli usi auto bici ragazzi non si stacca neanche se 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 ti impegni questa roba qua è incredibile allora preferisco illustrarvelo a voce piuttosto che con le musichette attraverso le immagini vedete che ci sono questi dischetti 3m si puliscono bene da superficie un dischetto va posto sul retro del telefono l'altro se volete sul tavolo e poi il telefono è orientabile ed è praticamente fisso auto bici tra poco vedrete anche la barca può essere utilizzato anche il tablet e la caratteristica di questo brevetto internazionale che viene dalle marche e che i dischetti possono essere personalizzati questi dischetti b adesivi con smile non ci sono residui sono regolabili facili da montare regolabili a 360 gradi un prodotto assolutamente italiano che potete usare per l'auto e chi ce l'ha beato lui anche per la barca eventualmente ma posso dire per qualsiasi mezzo di locomozione dovreste provarlo ad esempio in moto io l'ho provato non si stacca mai questi sono esempi anche dell'uso in situazioni estreme la mountain bike e poi anche usi più tranquilli come dicevo anche per il tablet eventualmente può essere anche posto sul muro azienda delle marche qui trovate tutti i contatti prezzi davvero incredibili vabbè dopus erangium dice valerio valeri dopus erangium intanto veramente siccome costa pochissimo se volete prendetelo sono tutti gli indirizzi li avete visti in modo di permettersi in contatto veniamo a noi allora ciala resta con la turchia mi par d'aver capito tanto doveva rientrare mercoledì almeno comincia subito le terapie lì l'inter è preoccupata non lo so fino a che punto l'inter sia preoccupata probabilmente un po sì perché è una ricaduta questa da infortunità sapete che ciala è troppo importante comunque faccia le terapie poi deve tornare comunque da podgorizza sono appena stato in montenegro un'ora e dieci un'ora e quindici di volo quindi non mi preoccupa tra l'altro in sette sono praticamente già rientrati adesso c'è zelinski poi rientra anche lui insomma pian piano a piano gentile dove c'è disponibile carlos augusto si sta ripopolando e la cosa che mi è piaciuta di più beh poi ci sono quelli lontani no però prima la cosa che mi è piaciuto di più è il marcus turam è il marcus turam è il marcus turam che veramente gli voglio bene come un fratello ma l'avete sentito cosa ha detto ai colleghi dopo italia francia a san siro nella cosiddetta mille zone ha detto delle cose bellissime ho giocato contro i miei fratelli interisti mamma mia mi te veri ben te veri ben marcus ti voglio bene per chi non è di milano però ve lo faccio ascoltare sentite il marcus turam le belle cose che ha detto sono con i miei fratelli è stranissimo giocare contro di loro ma li voglio tanto bene li ritrovo questa settimana e insomma fratelli del mondo io sono innamorato di turam ragazzi poi qualcuno adesso ovviamente mi dirà e poi arrivano con 80 milioni questa non ci voglio pensare non ci voglio pensare adesso non mi interessa di mercato vi ho già parlato nello scorso video editoriale adesso quello che mi interessa è che c'è la nolu non lo conto per verona inter giocherà aslani speriamo che basti non lo conto neanche per interdizia l'importante che riprenda al più presto il ciala che tornino tutti stando bene quelli lontani li ho seguiti per quel che posso seguire ho visto che buchanan è entrato gli ultimi minuti di suriname canada vinta dal canada quindi sta riprendendo anche lui insomma confidenza col campo l'argentina ha perso col paraguay tra l'altro un gol di sanabria pazzesco ragazzi il torinista sanabria ha fatto un gol in rovesciata non so se avete visto la partita una roba fantastica è segnato anche l'autaro ha segnato anche il capitano anche lì è bellissimo il gol controllo al volo sul filo del fuorigioco infatti è stato controllato al var c'è anche in sud america il var controllo al volo praticamente stop al volo di destro tiro di sinistro un gol meraviglioso del capitano lautaro martinez che speriamo insomma riacquisti al più presto la condizione quindi di cialanolo vi ho detto della gente che sta tornando in vista di verona vi ho detto lautaro ha fatto gol e questo è una buona cosa adesso cerchiamo ragazzi si sono credo sette partite in 28 giorni quindi bisogna per forza insomma tornare tutti nella miglior condizione possibile perché gli infortuni sono sempre dietro l'angolo non a caso si continua a parlare di mercato presto vi farò tutta una rassegna del casting per i difensori che si rinnovato praticamente dunfris è lunga ma rinnova anche lui sono abbastanza tranquillo e che altro vi devo dire niente non vi devo dire niente cioè di trascorrere questa settimana barbosa con calma e poi alle 15 naturalmente si va a verona sarò là e viviamo questa settimana con molta concentrazione ma non ho dubbi insomma che in zaghi saprà raccogliere tutte le forze non rispondiamo alle polemiche continua a dirlo sempre poi c'è milan juve a seguire c'è anche napoli roma con sir claudio ranieri lo chiamano è il sorranieri che torna praticamente hai visto mai che magari la roma dopo tante tante cadute tanti rovesci magari non riesca a in qualche modo a strappare un punto al napoli al maradona in tal caso in tal caso l'inter troverebbe la vetta della classifica se battesse il verona però siccome mi sembra tutto molto prematuro viviamo questa settimana con assoluta calma ciala continua a fare le terapie mi raccomando benedetto ragazzo e torna naturalmente mercoledì a casa che vi aspettiamo il mio fratello turam e il nostro fratello marcus non possiamo non vogliervi bene niente poi per il resto vabbè alle le ble che ha vinto a san siro ma io i francesi vado sempre la casa non non è che c'ho questa rivalità che hanno alcuni più la rivalità col milan per la verità ciao a tutti e viva l'inter in ter in ter